Crede che una crisi come questa possa riportare le persone che magari fino adesso hanno acquistato, per così dire, nella grande distribuzione, possa riportarle ad acquistare prodotti dietro casa? Sicuramente l'avvento della grande distribuzione ha creato un grosso scombussolamento, soprattutto dal 2008 in poi. Adesso si sta comunque delineando molto la differenza tra quello che può essere una grande distribuzione e quello che può essere la classica vecchia bottega che appunto in linea di massima ti garantisce un po' più di qualità, un pochino più di tranquillità e anche di essere poi seguiti nel tempo e non abbandonati subito dopo l'acquisto. Quindi sì, spero che la gente in questo periodo stia un pochino riflettendo su questo e che stia ritrovando anche un po' di attaccamento alla propria bandiera perché effettivamente di cose belle ne abbiamo tante proprio intorno a casa e magari prima non riuscivamo ad apprezzarle. Adesso invece sì, vedo che tanti si stanno impegnando proprio per il bene anche della comunità, quindi spero che la gente di questo se ne ricordi. Noi diciamo che ne facciamo anche molto una questione di sostenibilità, nel senso che sicuramente il made in Italy ha un sinonimo anche di, al di là della qualità, anche di durata, pertanto anche nel produrre un rifiuto molto più tardi rispetto a quello che può essere l'acquisto un po' più economico, infatti economico spesso va soprattutto nel nostro settore di pari passo poi con la durevolezza. Una volta finito tutto questo, di cosa avremo bisogno per ripartire secondo lei? Quando sarà ora, quando usciremo appunto da questo periodaccio, sicuramente dovremo riboccarci le maniche, quindi avere un po' di inventiva perché sicuramente tutto il settore economico dovrà reinventarsi, dovrà trovare un modo di ripartire da zero, insomma questo è un pochino un reset. Del resto siamo emigliani, possiamo farcela? Non botta, sì sì assolutamente, è la cosa che sappiamo fare meglio, non sono preoccupato per l'Emilia perché abbiamo gli attributi giusti.